Sì, siamo qua in piazza per accogliere fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla e anche per destinare parte di quei fondi lì, saranno destinati anche alla cura delle persone e all'accompagnamento delle persone alle visite. È frutto di un protocollo di intesa tra l'UMPLI e l'AISM, saremo qua in piazza stamattina al mercato, oggi pomeriggio ci troverete davanti alla piazza Chioratti, davanti alla farmacia Lerda e domani saremo nuovamente lì col gazebo tutto il giorno, quindi se venite e fate un'offerta siamo ben contenti. Con queste bellissime gardenie, in che orario sarete al gazebo? Sì, saremo oggi pomeriggio dalle tre e mezza alle sette e domani e domenica dalle nove praticamente saremo lì tutto il giorno, fino alle sette di sera, quindi torno ad invitarvi a venire e saremo ben lieti di offrirvi una gardenia. L'auspicio è che si possano al più presto tornare ad organizzare eventi in città? Sì, non vediamo l'ora in quel senso, però diciamo che quello più vicino potrebbe essere il 21 giugno, che è la giornata nazionale della musica. Ci piacerebbe organizzare qualcosa con le regole anti-covid permettendo e potrebbe essere un bel segnale per tornare a fare quello che più ci fa piacere organizzare, se c'è le feste di piazza. Vedremo cosa riusciremo a fare, se ne avremo la possibilità saremo ben lieti di farlo e ve lo faremo sapere. Grazie. Grazie a tutti.